ciao a grande richiesta eccomi qua a tradurre il video che ho fatto per i miei amici in madrid bene anche a loro tocca stare a casa come a noi stiamo a casa tanto abbiamo tanto da fare è pulire casa abbiamo bisogno di questi oggetti questo preziosissimo disinfettante serve per lavare tutti i vestiti tutto quello ci sta dentro la lavatrice una cosa che dobbiamo avere in casa da usare quando soprattutto si esce quando si è malati è una mascherina la mascherina è usata ormai anche come pass per entrare in certi posti io volevo il disinfettante spray non questo quello piccolo grasso questo è quello alto e magro però non c'era già più e quindi ho questo o quello magro ma è meglio avere quello grasso e ti quanti ti quanti beh io propongo una cosa se non li trovate più mettete in ogni dito un preservativo che tanto oramai non si possono più usare si può più baciare, non ci si può più abbracciare, non ci si può più toccare le mani, anzi per le mani c'è da usare, il sapone è un gel all'alcol, e come si usa? semplicemente prendo una nocina sulla mano e cominciando a pulire, fregare, l'alcol, l'alcol, l'alcol non da bere, e adesso un'ultima cosa molto importante, sono di mantenere le distanze, non ci si può più abbracciare, tenere le mani, dare baci, ma quando state da soli potete avere i vostri momenti intimi, comunque per mantenere le distanze abbiamo un attrezzo fondamentale, questo qui mantiene giuste giuste le distanze fra l'uno e l'altro, e così potete anche girare, se poi fa buio in casa, non c'è un problema, questo dispositivo possiede una luce, e quindi potete anche girare di notte!